E l'avete visto nelle immagini, c'era anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, alla cerimonia di apertura delle celebrazioni. Il sindaco ha annunciato ai nostri microfoni importanti lavori nella piazza e in vicino alla piazza del Duomo. La prima volta che ci sono salito avevo solo 15 anni e poi ci sono state più volte, sono salito su quella torre. Ricordo benissimo il momento in cui fu chiusa d'urgenza e ho avuto anche l'onore, quando il giorno in cui fu riaperta, perché allora ero consigliare comunale, di poter salire già nel giorno della riapertura, quando appunto era stata messa in sicurezza. In questi anni poi mi è capitato di accompagnare personalità, persone che hanno visitato la nostra città. Tra ricordi personali e istituzionali, anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, questa mattina alla cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni per i 850 anni del campanile del Duomo. Nel piano triennale delle opere, ricorda il sindaco, ci sono interventi programmati per riqualificare la zona a Tigua, piazza dei Miracoli. Una zona che già fa parte della buffer zone del sito Unesco, piazza Manin, Largo Cocco Griffi, via Cammeo, lungo via Contessa Matilde, dove sarà riqualificato tutta l'offerta commerciale, saranno fatti dei lavori di riqualificazione. C'è poi un nuovo obiettivo, annuncia il sindaco. Vogliamo realizzare una pavimentazione adeguata in piazza dei Miracoli. Questo è un impegno che prendo anche la lastricatura di piazza dell'Arcivescovado e via del Duomo fino alla porta.